In attacco comunque possiamo andare bene, però il pressing che c'era prima furioso non c'è più. Secondo me, vi ripeto, perché psicologicamente adesso hanno paura di scoprire la difesa, però o ti metti compatto in difesa, la vecchia maniera d'aversa e contropiede, cosa che non stiamo facendo perché pecchia, noi dobbiamo giocare con la leggerezza, più leggeri di così? Cioè, Osorio e Banog vanno a dire, ma prego, accomodi, ti segna, più leggero di così cosa vuoi? Più leggero te la fai direttamente, vai negli spogliatoi e lascia il segnale agli avversari. Loro suppure manda Osorio e Banog in attacco e lasciamo uno in difesa, il portiere da solo. Questa è la leggerezza. Ma figa giocano anche troppo leggerezza, più leggerezza di così? In serie S giochi con questa leggerezza, ti fanno quel cazzo che ce n'ha voglia. Insomma, dai là, loro di finire leggerezza, che leggerezza? Qua devi giocare con gli artigli, no? Con dentro la benzina, infiammabili, scorciare agli avversari. Vi saluto ragazzi, alla prossima e speriamo che pecchi abbia capito. Ciao! Ciao!